L'11 dicembre del 2013 l'Iran ha deciso di mandare la sua prima scimmia nello spazio. Si chiama Fargam. Quando ho visto le immagini ai telegiornali mi è venuta un'angoscia davvero poco descrivibile. Mi è venuto in mente Il pianeta delle scimmie, ve lo ricordate? Quel film dove praticamente le scimmie ci trattavano come noi oggi trattiamo gli esseri animali. Ma è come possibile che nel 2013 ancora si facciano queste cose? Mi domando ma non smettiamo mai di imparare che gli animali hanno diritto ad essere rispettati? Era così importante mandare un essere vivente nello spazio, una scimmia che non capiva neanche che cosa stesse succedendo, i suoi occhi sgranati, il terrore e tutti che l'applaudivano perché Fargam è riuscita a sopravvivere. Che vergogna, ancora succedono queste cose. Dobbiamo dire basta, basta all'utilizzo degli animali per le nostre ricerche, per il nostro divertimento, per lo spettacolo. La vogliamo far finita una volta per tutte?